...può essere montata e pulizionata come vuoi l'operatore, questo è un po' il nostro passaggio di mutilatore su un motorino o qualcosa, su una barca rimane ferma. ...un mondo sulla qualità è possibile vedere da troppo. ...sì, sì, anche perché vedo un S6 a 4K. ...sì, il S6 Plus Live, una HD, una HD. ...e questo, non lo fai a... ...non mi importa, diciamo, allora, c'è questa, si mette, questo si appoggia così. ...si allargano, si mette il telefono, prima si bilancia orizzontalmente, quindi se lo stanno la deserta. ...e con questa vite si bilancia verticalmente, quindi quando rimane, quasi, e così si accende che sia autofilanciata sull'auto. ...sì, e c'è, addirittura, si fornisce il clamp per la GoPro, perché qui si può attaccare anche una GoPro 3 o 4, diciamo, insieme. ...quindi, diciamo, viene, è riconosciato la HD del 1080. ...sì.